una sporca storia luise pulveda guanda addio maestro alle 0 30 del 5 agosto francisco coloane capitano del mare del sud ha dato un colpo di timone e ha infilato la prua della sua vita di uomo onesto di grandioso scrittore di carissimo amico di compagno e maestro nel porto definitivo di un ultimo viaggio senza ritorno mentre scrivo commosso dalla notizia vedo la sua imponente figura da marinaio in piedi davanti alle onde che cerca con lo sguardo i passaggi fra le isole dell'arcipelago cilotte o alle guaiatecas o in mezzo al canale di moraleda o mentre scriva le frenetiche acque del baker davanti al golfo di pegnas soffia con forza il vento della terra del fuoco ma don pancio riesce a portare la barca sotto vento e a far salire a bordo tutte quelle persone semplici umili ed eroiche che hanno formato l'equipaggio dei suoi libri di generoso capitano dei poveri del sud da coloane ho imparato che noi scrittori possiamo stare da un lato della barricata che prima siamo uomini civili difensori dei diritti umani e poi se resta tempo scrittori da coloane ho imparato il rigore e il rispetto con cui devo scrivere della mia gente degli emarginati della terra di quelli che creano la ricchezza e non ne godono mai da coloane ho imparato la disciplina il lavoro quotidiano la soddisfazione della pagina e del libro scritti senza concessioni mi ha insegnato molto e ora che è notte davanti al mar cantabrico inquieto per i venti del nord piango a denti stretti come facciamo noi uomini del sud prima di accettare il naufragio anche questo me l'ha insegnato don pancio coloane lo vedo ancora a roma madrid a parigi circondato da centinaia di lettrici e lettori delle sue opere all'improvviso arriva il torno di una ragazza che gli da un libro perché lo firmi don pancio le chiede il nome lei risponde rosella e coloane le dice che così si chiamava una bella goletta che aveva visto attraccare in un porto cinese e che la prima persona a scendere a terra era stata una splendida signora con un incarico tanto segreto quanto pericoloso non se ne vada le propone don pancio appena abbiamo finito qui le racconto il resto della storia camminando per semmolo un ragazzo uno dei suoi appassionati lettori francesi gli dice che ha un'aria molto forte forte io esclama don pancio forte era l'olandese vedi i pali del frangiflutti l'olandese dato che non aveva molto tempo a terra faceva lanciare in cima verso i pali e girava due volte l'altro capo sul largano così con le vele gonfie sopra vento regolava lui la tensione della cima e teneva la nave pronta ad attraccare e allo stesso tempo a riprendere la sua rotta quello sì che era un uomo forte un'altra volta a madrid all'uscita del café quijón lo vedo entusiasmarsi con due ragazzi a cui racconta il tragico destino di tutti quelli che si lanciarono in cerca della città perduta dei cesari nelle mille valli di una terra chiamata trappananda che forse dice don pancio era solo un'invenzione del generale garcia ortado de mendoza ho iniziato a divorare i suoi libri quando avevo 15 anni e oggi mi emoziona vedere che i suoi lettori in francia italia spagna germania portogallo grecia belgio olanda denimarca e slovenia sono soprattutto giovani innamorati delle sue storie della sua prosa impeccabile e del suo modo inconfondibile di narrare l'ho conosciuto a 15 anni ma l'ho visto di persona quando non avevo più di 40 prima di andare a santiago ho ordinato nel miglior negozio specializzato di hamburgo un berretto blu riservato agli ufficiali della marina mercantile quando sono andato a ritirarlo mi hanno chiesto il nome e il grado dell'ufficiale per metterli sull'etichetta ho risposto francisco colovane capitano del mare del sud pochi giorni dopo ho suonato la sua porta e ho subito capito che il vento incrociato del beagle fa impazzire i marinai che le correnti di corcovado sono tradittrici come i barracuda che solo il lento spostamento dei capodogli consente di valutare i banchi di sabbia nel mare di wedel e che eravamo amici grandi amici membri dello stesso equipaggio quando le navi lascia l'amburgo e navigano sull'elba verso l'estuario di cook's heaven a wedel un vecchio lupo di mare le saluta con un megafono dice ahoi equipaggio del red star di rotta su val pareiso buon vento e buon mare ahoi 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 stasera davanti al cantabrico istò sopra la mia finestra il gagliardetto di saluto e grido al mare mosso ahoi franzisco colovane buon vento e buon mare ahoi ahoi ahoi